Con Auxilium ho un modo di gestire il mio lavoro in autonomia. Con Auxilium ho avuto la possibilità di sviluppare la mia creatività attraverso attività ludiche per i beneficiari. Anche se lavoro da poco tempo qui allo Strat, sono molto entusiasta delle cose che ho incontrato. Stare con loro è un piacere. Io sono un operatore di integrazione e con il mio lavoro cerco di favorire il senso di dignità dei beneficiari attraverso l'inserimento lavorativo. Parlare con Auxilium significa anche viaggiare, visitare nuovi posti e conoscere gente da tutte le parti del mondo. La lingua e le diverse culture sono sempre state la mia passione e attraverso questo lavoro ho la possibilità di coltivarle giorno dopo giorno. Sono Gianna, un paella. Lavoro con Auxilium più di otto anni e sono molto felice di fare parte di questa grande famiglia. Grazie alla cooperativa Auxilium mi ha sviluppato un senso di partecipazione di connessione con i miei colleghi e i miei beneficiari. In Auxilium il mio talento per il canto è stato sempre valorizzato e infatti i miei colleghi mi chiedono sempre di cantare per loro. Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto ti hanno inventato il mare tu dici non ho niente ti sembra niente il sole la vita, l'amore è meraviglioso ooooh 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 ooooh